buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera professionale con la v maiuscola unica al mondo oggi rispondo ad una persona che mi scrive dalle hawaii e mi chiede dottore sento un vuoto un vuoto un vuoto al centro del petto cosa posso fare ho girato mezzo mondo ma questo vuoto non se ne va questo vuoto esistenziale lo chiama bene io rispondo a questo signore rispondo anche a te che mi ascolti a questa persona dicendo che questo vuoto l'ho sentito per tantissimi anni anch'io quando ero uno studente lavoratore senza una lira in tasca sentivo un vuoto una frustrazione che poi ho scoperto con il tempo e più in là essere causata dall'ansia perché guarda caso sono figlio di una mamma mezza suora mancata che ha sentito negli anni prima del 2008 ansia ansia e apprensioni che l'hanno portata ad avere questo vuoto al centro del petto questo peso questo vuoto esistenziale ok da quando utilizzo dal 2008 ad oggi l'ipnosi dcs vera professionale con la v maiuscola è scomparsa quel vuoto al centro del petto anche a mia madre è sparito tutto dopo tantissimi anni e ho aiutato centinaia e centinaia di persone a far sparire letteralmente parlando questo vuoto somatico sul corpo e sulla mente questo vuoto esistenziale ti racconto una storia quando ero un ragazzo e anche quando ero uno studente lavoratore senza una lira in tasca mi svegliavo la mattina con una sensazione di vuoto di frustrazione di mancanza di realizzazione non sapevo il perché perché mi sentivo questo affanno questa questa cappa al centro del petto perché volevo ma non riuscivo volevo realizzarmi volevo uscire dalla povertà volevo fare qualcosa per dare un senso alla mia vita questa esistenza terrena finché ero vivo finché sono vivo ma non ci riuscivo non potevo che cosa mi bloccava che cosa mi tarpava le ali che cosa non mi faceva decollare volare eppure la mia sinceramente girava in co di continuo mi ricordo a modena vicino milano quando ero uno studente lavoratore senza un'aria in tasca in viale muratori dopo il collegio universitario residenza universitaria maschile via campi mi spostava in viale muratori vicino al centro di modera e sinceramente tante volte mi mettevo a letto chiudevo gli occhi e mi chiedevo ma che cosa qual è il senso della mia vita che ci faccio su questa terra ok e mi addormentavo con queste domande sicuramente il mio subconscio le rielaborava le rielaborava e cercavo di darmi una soluzione che poi è arrivata adesso grazie a dio sto bene per le prossime 37 vite e non lo dico per vantarmi ma per ispirarti che mai dire mai ok grazie a dio grazie al mio subconscio e grazie all'ipnosi di cs vera professionale con la v maiuscola unica al mondo per cui se tu senti questo vuoto come lo sentivo io come lo sente questo signore delle hawaii non ti arrendere non ti arrendere scarica di un audio mp3 dcs come ad esempio no ansia no panico tanto per dirne una dal sito dell'associazione ipnologi associati di los angeles beverly hills ha conceduto tutti i miei diritti e meravigliati del potere della tua mente segui le istruzioni molto facile la prova di un nonno la prova di un idiota la prova di un pigro è veramente questo vuoto se butti via l'orologio il tempo e il calendario nel cestino questo vuoto evaporerà sparirà non devi credere a nessuna parola del sottoscritto devi soltanto fare fare azione e meravigliarti del potere della tua mente il vuoto sparisce se convinci il tuo subcosciente a mettere al posto di quel vuoto delle cose che ti rendono felice e contento e le parole che sono dette in quest'audio mp3 dcs no ansia no panico non fanno altro che cancellare a livello subconscio e anche a livello fisico tutto ciò che ti sta causando ansia 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 frustrazioni che si somatizzano e le senti soprattutto qui al centro del petto e se sei esperto di chakra sai a quale chakra mi riferisco ok fammi tutte le domande del caso visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi autoipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cesta del dottor claudio saracino e fa share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare ti può cambiare la vita seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di cesta del dottor claudio saracino un bacio e un abbraccio amico mia amica mia alla prossima dottor claudio saracino alla tua ciao